E noi invece ci trasferiamo subito sulle strade, andiamo in via Pianuova con Antonella Armentano perché si chiude la stagione dei saldi, come lo chiediamo ad Antonella e ai suoi ospiti? Allora sì, dicevamo della difficoltà che sta vivendo proprio questo periodo di saldi e tante le cause tra queste c'è quella del commercio online e novità di questi ultimi 3 o 4 anni una moda che si è diffusa anche in Italia, quella del Black Friday Allora ne parliamo con Giovanna Marchese Bellavoto, presidente di CNA Commercio Roma Che cosa sta accadendo? Buongiorno, sta accadendo che abbiamo un mercato virtuale verso il quale non ci sono dei confini delimitati che ha suscitato molto interesse nei consumatori e quelli sono tutti soldi che non sono rientrati nell'economia romana Il Black Friday ha contribuito perché a differenza di quello che succede all'estero non è durato un venerdì ma è andato avanti fino a Natale, quindi noi chiediamo solamente il rispetto delle regole questa città ha sofferto tantissimo e ha perso un'opportunità importante non solo per le attività commerciali ma anche per i clienti, che è il periodo dei saldi, proprio perché non abbiamo avuto i controlli